Trasformare le idee in impresa senza farsi scoraggiare dalla burocrazia. A Castel dell'Ovo il comune di Napoli e Invitalia sottoscrivono un'intesa per incentivare la nascita di nuova imprenditoria sul territorio e per creare le condizioni competitive per attrarre e realizzare nuovi investimenti. Agli aspiranti imprenditori viene offerta una mediazione con gli istituti di credito, il supporto per le procedure amministrative, una consulenza anche personalizzata per la progettazione delle attività. La firma ufficiale dell'accordo è stata preceduta da un breve seminario di informazione introdotto dal sindaco Luigi De Magistris, dall'assessore allo sviluppo Marco Esposito e dall'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri. Questa è più che un'idea, un fatto concreto. Le idee c'erano prima di firmare questo protocollo che mette insieme il comune di Napoli e Invitalia per creare incubatori di impresa, dare concretezza alle idee dei nostri giovani e quindi far muovere l'economia sana e creare posti di lavoro. Noi su questo stiamo lavorando molto, autoimprenditorialità, cooperative di giovani, idee, piccole e medie imprese, il lavoro che stiamo cercando di fare perché l'economia in questa città deve essere sana e dobbiamo produrre creatività economica e non la creatività finanziaria di chi ci ha preceduto in questi anni che ha prodotto l'indebitamento sul quale stiamo per essere tutti quanti schiacciati. Questo progetto viene avviato qui per la prima volta e siamo molto contenti di farlo nella capitale del Sud. La situazione di crisi economica del mondo che noi conosciamo è alquanto preoccupante, questo non deve essere per noi un elemento di conforto. In questo momento i giovani devono capire che non basta più cercarlo il lavoro ma bisogna inventarlo, ma è anche un'opportunità per dare sfogo e leva alle risorse infinite che i nostri giovani hanno. Non è la prima volta che succede, è già successo dopo la Seconda Guerra Mondiale e abbiamo vissuto una stagione che si chiamò il miracolo economico. Grazie.